fammasi gli affari si tratta di portare i conti di un affare molto importante come se ormai chiesti a lavorare? si c'è invece l'ora della facoltà di affamandola ah bravo questi sono tutti contabili loro devono contare tutti questi bei bigliettoni colorati è un lavoro semplice e semplice hai capito a te? hai capito a te che c'è qua? questo è il locale e questo è il bar eh fai un pacco e spedisci a Milano anzi faglielo fare a lui eh fate l'osso eh si comincia a contare questi ma cosa stanno facendo con quegli scatoloni? niente li mettiamo nei frugini e li mandiamo fuori dall'età no 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 fermo adesso tu mi porti immediatamente da Lauria hai capito Giordano? e faccio dei cani che si straccia la camiso fermi fermi e alzi le mani strunz no 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 sowやって no 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 no